Bentornati su MyFootballGersie. Oggi vi diamo una edizione speciale del Borussia Dortmund per la stagione 22-23 in versione player, la versione fan l'eravamo già vista e trovate qui in alto la recensione. La versione del Borussia Dortmund La maglia è molto bella, devo dire che nella mia classifica è una delle mie preferite e prende 4 stelle. Bellissimo il contrasto, diciamo così, delle scritte e bellissimi come sono stampati i numeri. Il costo lo vedete qui sopra? Che aggiungere? Parla da solo, secondo me non c'è altro da dire. Vi ricordo che in descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale, prima però lasciateci un grosso like e iscrivetevi al canale. E' l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Grazie a tutti! Grazie a tutti.